Ben trovati da Nikos di Trebi Meteo. Diamo insieme uno sguardo alla tendenza per giovedì perché l'alta pressione interesserà ancora un po' tutta la nostra penisola. Stabilità in zona mediterraneo ma dalla serata si addosso all'arco alpino un fronte instabile che nel corso di venerdì raggiungerà molte zone del lato adriatico, quindi tutto il nord-est via in giornata anche sul medio-basso adriatico. Andiamo però con ordine, guardiamo la giornata di giovedì perché troveremo un po' di variabilità a tratti sull'angolo più nord-occidentale, poi spazio per il sole e nel pomeriggio a quelli qui con sueti temporali di calore sulla dorsale appenninica in locale sconfinamento alle coste del basso tirreno. Anche la prossima grafica ci conferma una giornata di alta pressione e di bel tempo sull'Italia da nord a sud, primi temporali dalla serata sull'arco alpino e poi temporali di calore come vi dicevo sulla dorsale appenninica in locale sconfinamento al basso tirreno. Sole altrove in pianura padana massime fino a 32 gradi, sarà una giornata un po' calda. Dettagli maggiori sull'app di Trevi Meteo.